signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale continuiamo sempre a parlare di world building però la fisica oramai almeno nei suoi tratti generali l'abbiamo trattata e in questo prima parte della stagione voglio cercare di fare un'introduzione generale all'intero world building quindi da questa settimana cambiamo argomento e andiamo a parlare della cultura all'interno del mondo di gioco questo sarà di nuovo un primo video introduttivo all'argomento a cui ne seguiranno altri più specifici la speranza è quella di riuscire a trattare i tre temi generali cioè la fisica la cultura e il sistema magico entro la fine dell'anno francamente non lo sono ancora finito di scrivere i video vedremo non perdiamo però altro tempo e cominciamo questo video come ho detto a introdurre in linea generale la cultura all'interno del mondo di gioco e poi vedremo di scendere in dettagli nelle prossime settimane come abbiamo già fatto nel video sulla fisica anche in questo sulla cultura useremo cultura come termine generale per definire tutti i comportamenti le organizzazioni e le associazioni all'interno del mondo di gioco se non avete visto il video sulla fisica ve lo lascio linkato qua in alto andatevelo a rivedere perché non ripeterò quello che abbiamo già detto una cultura può essere qualunque cosa da un vasta cultura nazionale alla micro cultura del singolo gruppo di persone su questo non credo di dover fare tanti esempi già nel gioco di ruolo tradizionale se vi è mai capitato di giocare con due gruppi di gioco di ruolo diversi avrete notato che il modo di approcciarsi al gioco di un gruppo è praticamente diametralmente opposto a quello di un altro gruppo è ancora diverso da quello di un terzo gruppo ogni gruppo ha la sua cultura specifica tutte queste singole culture da tavolo sono comunque delle nicchie all'interno della più grande cultura del gioco di ruolo e il gioco il ruolo stesso i suoi giocatori fanno parte di altre culture ancora in base al lavoro che fanno alla nazione in cui abitano e loro idee politiche quello che volete ogni tipo di interazione umana da origine al suo tipo di cultura ovviamente nel vostro mondo di gioco quali siano gli aspetti importanti e quali siano le estensioni delle varie culture che dovrete andare a inserire dipendono da quali sono i temi importanti che dovete trattare nella quest o nella campagna e a quale livello di world building state lavorando se state lavorando sulla macro scala dovrete lavorare su culture molto varie ma molto poco definite se state lavorando sulla micro scala probabilmente i vostri gruppi culturali saranno formati da poche persone magari poche decine di individui ma saranno molto ben definiti nei loro obiettivi e nelle loro finalità in una quest ambientata tutta all'interno nella stessa città magari ogni quartiere della città e ogni organizzazione all'interno della città ha una sua cultura distinta al contrario andando sulla grande scala in una quest in cui i giocatori devono viaggiare una parte all'altra nella via lattea visitando dozzine di pianeti può darsi che non solo tutti gli abitanti di un pianeta appartengano alla stessa cultura ma anzi che tutte le colonie di quel pianeta siano un unicum culturale di miliardi e miliardi di individui in questo video cominciamo a definire nella maniera più ampia possibile quali sono i requisiti minimi per sviluppare una cultura all'interno del vostro mondo di gioco ovviamente non è una lista omnicomprensiva la andremo approfondire con altri video per molto tempo probabilmente però questo serve a darvi almeno un minimo di base su cui riflettere per cominciare a organizzare le vostre culture nella vostra campagna la prima cosa che dovete andare a considerare quando sviluppate per la vostra ambientazione una cultura o un gruppo un'organizzazione qualsiasi gruppo di persone che agisca in maniera unitaria è quella che tutti i membri della cultura debbono avere in qualche modo uno scopo comune quale sia lo scopo comune dipende dal tipo e dalle dimensioni della cultura del cui stiamo parlando una vera e propria cultura nazionale fatta da decine se non centinaia di migliaia se non milioni di persone che hanno l'unico scopo comune quello di preservare la loro nazione il loro regno quello che è e magari cercare di migliorarlo una cultura molto più rispretta un'organizzazione la gilda di ladri di una specifica città potrebbe essere composta da una dozzina di individui in tutto ma avere uno scopo molto più dettagliato controllare l'attività criminale in quello specifico quartiere in quella specifica zona di quella specifica città quasi sicuramente comunque una cultura molto vasta come abbiamo detto nel caso di quella del gioco di ruolo prima contiene al suo interno altre culture con obiettivi più specifici se tutti gli abitanti della nazione hanno in comune lo scopo di far prosperare la nazione all'interno della nazione ci sarà un qualche tipo di organizzazione militare l'esercito le guardie del re che hanno come scopo quello di preservare militarmente i confini del regno e difenderlo militarmente dai suoi nemici ma magari ci sarà anche una gilda dei mercanti un'associazione degli industriali che invece ha i suoi obiettivi negli interessi economici della nazione questo non vuol dire comunque che una cultura più piccola non debba essere per forza frammentata magari anche nella gilda dei ladri di una dozzina di persone ci sono due correnti di potere in base al tipo di crimine commesso con gli scassinatori che si ritengono migliori dei borsaioli ogni cultura tenderà a favorire e promuovere quegli aspetti della vita comune che sono più favorevoli al proprio scopo la cultura dei militari del regno considererà molto favorevolmente aspetti come il valore in battaglia l'onore la lealtà al regno e l'associazione degli industriali la ricchezza l'acquisizione di nuove risorse e la gilda dei ladri l'astuzia e la capacità di non farsi beccare ora nel mondo reale tutte le grandi culture le grandi organizzazioni che sono poi diventate famose o famigerate hanno in realtà sempre perseguito i propri scopi ma in realtà è un'ottica di darwinismo sociale quelle culture che non sono riuscite a imporre le caratteristiche preferibili all'interno della loro stessa organizzazione semplicemente sono scomparsi i regni i cui militari non erano né valorosi né fedeli al regno sono stati invasi dei regni vicini e le organizzazioni criminali che non erano bravi a non farsi beccare sono state distrutte dalla polizia che ne ha arrestato i membri all'interno della vostra campagna le varie culture le varie organizzazioni dovrebbero sì essere sviluppate secondo un minimo di logica per mantenere una verosimiglianza ma dovrebbero essere strutturate intorno agli aspetti ai temi importanti all'interno della campagna stessa per stabilire quindi quali sono le culture che sono diventate dominanti fate il processo opposto se la vostra campagna per esempio si concentra sul tema della libertà e della tirannia create almeno due culture una particolarmente libertaria e una particolarmente tirannica se i vostri eroi dovranno combattere eroiche battaglie inseritele in una cultura in cui combattere eroiche battaglie sia visto come qualcosa di positivo o comunque non negativo poi una volta che avete definito quali sono i tratti dominanti della cultura procedete a ritroso a giustificare il perché sono emersi quei tratti e non degli altri altro elemento fondamentale che molto spesso definisce e influenza pesantemente lo sviluppo di una cultura e la possibilità di accesso la mancanza di accesso a determinate risorse qui parliamo di risorse nel senso più ampio del termine possono essere vere e proprie risorse primarie come l'acqua l'accesso al cibo minerali per l'industria sia risorse in maniera più indefinita come alcune conoscenze culturali la possibilità di recuperare determinati equipaggiamenti o anche solo la ricchezza il potere l'influenza politica qui possiamo fare un esempio preso a piene mani dal fantasy classico pensate alla versione più standardizzata e ovvia della classica cultura dei nani che pone una grandissima enfasi sia sulla resistenza personale sia sull'artigianato in pietra metallo e sull'estrazione mineraria normalmente viene detto che tra i nani essere un minatore o essere un fabbro è considerata una posizione di grande prestigio sociale fermatevi a riflettere un attimo su dove esattamente vivono i nani ai nani le loro fortezze nelle montagne bla 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 sì ma nella pratica i nani vivono in quella che è la zona di confine tra il mondo di superficie e i vari abissi dell'underdark le montagne e la zona superficiale della crosta dove vivono i nani ha grandi risorse minerarie ferrose ma non gli permette un accesso diretto né alle pianure fertili della superficie né alle grandi foreste di funghi che ci sono nelle enorme caverne dell'underdark fondamentalmente dove vivono i nani l'accesso a una delle risorse primarie cioè il terreno coltivabile è estremamente difficile in queste condizioni i nani non possono avere un grande sviluppo né nell'agricoltura né nell'allevamento l'unica cosa che possono fare è sviluppare un enorme industria di artigianato e poi importare cibo tramite l'esportazione appunto sia di minerali grezzi che di manufatti lavorati le asce dei nani le armi dei nani sono costosissime perché di grandissima fattura i lavori in pietra dei nani sono considerati superiori a qualunque altro fondamentalmente i nani se non avessero tutta questa enfasi sulla lavorazione e l'estrazione di pietra e metalli non avrebbero assolutamente niente di utile da commerciare e quindi si morirebbero di fame non è affatto strano in quest'ottica che la loro società si sia sviluppata intorno al concetto che minatori e fabbri sono professioni onorevolissime e che la resistenza la durezza la stoicità siano cose da tenere nel massimo rispetto sono letteralmente i valori e le capacità che gli permettono di mantenersi vivi se continuiamo su questa ipotetica economia fantasy in realtà però esiste anche un'altra razza che vive nella stessa zona di confine tra under dark e mondo di superficie che invece è rappresentata come un popolo di trogruditi rozzi e selvaggi predatori barbarici gli orchi quello che manca agli orchi ma che non manca ai nani è l'accesso a un'altra risorsa le conoscenze letteralmente le conoscenze tecniche pratiche gli orchi vivono in un territorio in cui non hanno sufficienti risorse per alimentarsi ma non hanno assolutamente nulla da commerciare perché il loro bassissimo livello tecnologico non gli permette di estrarre le risorse minerarie e lavorarle in maniera efficiente come fanno i nani che invece sono maestri in questo e il fatto che la loro vita sia barbarica e di sussistenza vuole anche dire che semplicemente il singolo individuo all'interno della società orchesca non solo non ha l'accesso a questo tipo di informazioni ma non avrebbe neanche il tempo per acculturarsi un orco deve andare a predare i villaggi perché se no non mangia non ha tempo di mettersi a studiare come si estrangono i metalli dalla roccia e la società degli orchi non ha risorse tali da poter creare un'accademia di ricerca sulle risorse minerali va da sé che senza la possibilità di coltivarsi il cibo da soli e senza la possibilità di avere qualcosa da scambiare con cibo con gli altri l'unica cosa che resta a fare gli orchi è andarlo a rubare o agli abitanti di superficie o agli abitanti dell'underdark diventando così una cultura che mette grande enfasi sul valore in battaglia la ferocia dei guerrieri e uno scarso interesse nel rispettare leggi e proprietà altrui ma dato che loro sono costretti a razziare per vivere essere dei guerrieri feroci avere scarso rispetto con le proprietà altrui sono dei valori culturali molto utili in quel tipo di società sì tra l'altro anche le tensioni razziali tra orchi e nani a questo punto sono dovute a motivi puramente economici perché cosa vi aspettavate questo ovviamente è semplicemente un esempio nel vostro mondo non necessariamente ci sono orchi e nani non necessariamente un fantasy e anche se un fantasy con orchi e nani non necessariamente le loro società devono essere strutturate in questo modo però è un modo per vedere come anche partendo dalla fisica cioè le risorse del territorio e le risorse di conoscenza due società potenzialmente simili danno origine a culture totalmente diverse sarebbe potuto avvenire il contrario se inizialmente gli orchi avessero avuto un vantaggio tecnologico magari in quel mondo gli orchi sono una razza di minatori e lavoratori molto rispettata e i nani sono degli omini spaventosi che emergono dalle caverne per razziare i villaggi molto spesso i gruppi culturali dipendono anche in qualche modo da una storia e da un passato comune sia che si tratti di eventi storici che li accomunano sia che si tratti di un qualche tipo di origine comune nel passato anche in questo caso l'entità della storia passata dipende prima di tutto da quanto deve essere importante quindi quanto deve essere sviluppata l'organizzazione o la cultura all'interno della vostra campagna ma anche in questo caso la scala conta una cultura nazionale composta da centinaia migliaia milioni di individui potrebbero vantare tutti un origine comune una storia una tradizione comune magari leggende comuni su come un eroe mitologico ha fondato il loro regno e magari appartenere a un vero e proprio gruppo culturale che abbia forme di architettura e forme di espressione artistica comune la gilda dei ladri della città potrebbe essersi venuta a formare qualche decina d'anni fa dopo che un capitano della polizia particolarmente zelante ha inasprito la sorveglianza in città e quindi varie bande di ladri hanno dovuto unirsi tutte assieme per protezione fate attenzione che non è tanto il tempo passato a essere rilevante non è che una piccola organizzazione deve avere una storia molto recente e un'enorme cultura nazionale deve averne una vecchia di migliaia di anni ma è la rilevanza dell'evento un'unità nazionale potrebbe anche essersi sviluppata da pochi anni perché magari una serie di piccoli regni divisi sono stati tutti invasi da una nazione più grande e tutti i regni hanno dovuto mettersi insieme creando così una cultura comune una piccola banda criminale potrebbe avere un'origine di centinaia di anni ma il culto degli assassini è famigerato ma in realtà è composto solo dai 5 assassini più crudeli di tutto il mondo badate bene che questi eventi non devono necessariamente essere reali e neanche più di tanto verosimili basta soltanto che siano percepiti in questo modo dagli abitanti della cultura stessa gli abitanti di quel pianeta potrebbero avere una venerazione quasi religiosa per i coloni originali che per primi installarono la propria civiltà su quel pianeta raccontare le loro eroiche gesta e riverirli come grandi saggi e maestri spirituali nella realtà i coloni originali erano una banda ai disgraziati che è precipitata su quel pianeta mentre stava scappando da un altro pianeta dove li inseguivano per fargli la pelle c'è anche il caso che non ci sia nessun particolare evento storico comune ma solo la quantità di tempo passato assieme ha creato una cultura al suo interno in una valle in mezzo alla giungla nel corso del tempo si sono stabiliti tre villaggi che venivano da tre regni diversi dopo cento anni con la mescolanza tra gli abitanti dei villaggi e le varie influenze culturali adesso la valle in mezzo alla giungla ha una sua cultura propria una sua tradizione identitaria che è influenzata da quella dei tre regni originali ma in realtà è qualcosa a sé con dei propri valori dei propri principi totalmente diversi semplicemente perché tanta gente che passa tanto tempo assieme alla fine o si ammazza la vicenda o troverà un modo per collaborare e trasmetterà questo alle generazioni successive anche in questo caso procedete a posteriori stabilite quanto deve essere importante quanto deve essere approfondito il retroscena in una cultura e poi una volta stabilito quanto volete della cultura sia influente procedete a posteriori a giustificare la sua storia e come si è arrivati in quel momento cioè il tempo in cui i giocatori effettivamente la incontreranno diciamo che per questo video è tutto probabilmente questa settimana ho sfuorato di brutto i tempi previsti ma non fa niente, l'argomento è ostico, è complesso, c'è un sacco di cose da dire magari nelle prossime settimane andremo avanti con qualcosa di un attimo più pratico e meno teorico nel frattempo comunque scrivetemi quali sono i modi in cui voi definite le culture all'interno del vostro gioco su che cosa vi soffermate, che cosa invece ritenete inutile ovviamente se avete domande, dubbi, perflessità scrivete anche quello se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e scacciate la campanella se non volete perdere le notifiche io sono il Master Ka e noi ci vediamo al prossimo video